Un dipendente dell'ospedale di Polla è finito sotto inchiesta per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Nei giorni scorsi gli è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini scattate nei suoi confronti l'estate scorsa. Nel mirino della giustizia è finito un episodio che si sarebbe consumato in un luogo lontano da occhi indiscreti e la vittima sarebbe una ragazzina di 13 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri la minorenne stava giocando nel cortile dell'abitazione dei suoi genitori a Polla ed è stata avvicinata dal sessantenne suo vicino di casa. I due hanno conversato per un po' dopodiché si sono incamminati verso un luogo lontano dall'abitazione di entrambi. Raggiunto un posto appartato il dipendente pubblico si è avvicinato alla ragazza e l'avrebbe abbracciata e baciata sulla bocca. La minorenne senza esitare è corsa a casa ed ha raccontato tutto ai genitori che immediatamente hanno presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini della procura della Repubblica di Lago Negro sono terminate con la conferma di quanto era stato raccontato dalla ragazzina. Una storia tutta pollese che imbarazza il paese e l'intero comprensorio del Vallo di Diano dove l'uomo è molto conosciuto. Ora il dipendente pubblico dovrà difendersi dalla pesante accusa d'innanzi alla giustizia. Non è escluso che la denuncia per violenza su una minorenne possa influire sul suo lavoro. Per il momento continua a rimanere in servizio presso l'ospedale Curto di Polla.